Si era improvvisato armiere ma qualcosa era andato storto, si era infatti ferito e per lui adesso è pure scattata la denuncia. L'uomo infatti alcuni giorni fa era stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per una ferita d'arma da fuoco alla gamba che si era procurato mentre si trovava da solo nella sua casa di Anghiari. Ai sanitari però aveva dichiarato di essersi ferito con una cartuccia da caccia dopo aver battuto casualmente col martello sul caricatore. L'uomo, un 72enne, non ha convinto neppure i carabinieri col suo racconto. I militari hanno infatti fatto visita alla sua abitazione e l'hanno perquisita. Qui hanno trovato una pistola artigianale che l'anziano si era costruito da solo. Si era ferito infatti mentre cercava di caricare l'arma con una cartuccia da caccia calibro 36 facendo così esplodere la canna. L'arma adesso è stata sequestrata dai carabinieri che hanno denunciato il 72enne per detenzione illegale di arma clandestina.